Draghi no L'immagine del Nemesis Non è fatta per il meme My Honest Reaction Oh salve ragazzi Bonjour Ok Qua gente non si porta gli item Perché mi sa che vuole farmarli con Dramaturgy o come cazzo si chiama Già il primo paletto è andato Ok dovrebbe essere un hit abbastanza easy questo Beh Mi artico la schedule Lei mi sta confondendo Mi sono andato per le zero drag No sniper si è andato in bagno quando l'ho scritto io Ah beh Cosa dovevo farci signor shy Guarda è stato tra Uh Ok ha urlato Come on death Dove mettermi caricare le cuffie L'ho provato ma Non l'ho fatto in tempo Mi sa che non ci arrivo comunque no Ci ho provato La flashbang La flashlight un po' mi ha fottuto L'hanno fixato questo bug allora Maledetti C'era un hidden bug con la draga Che avevo trovato l'altro giorno Giocando a caso L'hanno fixato Fuck Niente God has perso Non così tanto ma Bloodlust 2 qua ci arriva Non lo so mi sento troppo lento io raga Mi sono andato più per un urso Non lo so Rick Qualcuno ha urlato ancora prima Che lo appendessi Ottimo Beh il god palette è droppato così Accetto volentieri Il god palette così droppato Abbastanza pre drop Senza neanche un loop Per me è ottimo Bravo Ma questa è la prima volta che entro in nightfall Ora che ci penso Sono sei quarti d'ora ragazzi Entrare in nightfall Riusciamo a prendere la prank In questo nostro genno Ottimo Ebbah Nice Ottimo Credo che stai cercando di caricarsi Springburst O drammaturgia Uno dei due Comunque Sono riusciti a non fare il genno Esatto Spera una giocata Che ha fatto Un po' confuso Era Durato due ore Il nightfall Ma Ce l'ha messo Anche due ore Forse è tutto Poco il teletrasporto Credo che si è bloccato Il gen Non si Comunque facciamo urlare qualcuno Ma Usa la drammaturgia Si è urlato Che palle Ma prendetevi l'exposed Con drammaturgia Che palle boys Ma almeno una volta Ci ho sperato che Vabbè Si è lontanato dal loop Perché non sapeva dove andare Ottimo Io sono il bambino Che urla come una foca Vi racconteremo la storia Del piccolo del fino Che piangeva Voi mi confondete tanto Ragazzi Soppiatelo Tanto proprio Ve lo dico Easy Easy Sapevo che c'era qualcuno Che stava arrivando Volevo infatti lasciare giù Il remnant Così da potermi Tipare indietro Easy C'è uno slaggino Direi a sto punto Nooo Bravo C'era giocata bene Ciao Teteo Buonasera caro Benvenuto Come stai? Davvero non ci sono arrivato? C'è qualcun altro Qua dietro Sì Un tizio che non avevo Ancora mai visto Tutto a posto Grazie che ci racconti Allora abbiamo ancora uno Scourge Credo che sia l'Ace Però siamo Abbastanza in una buona posizione Non so se due Dead or Nook Potrebbe essere Dead or Nook Sennò è a second stage Dead or Nook Barbecue Un chili For the win Agilità Però qua non ci sono più pallet Forse No Forse non ho lasciato uno invece Non si è morto Non ci arriva Nice Oggi ho comprato Dragha, Freddy e Ghost E ho preso 3 di 5 kill Forse la prende No Non è vero Dragha e Freddy Ma non fanno impazzire E adesso vediamo Con Barbecue Dove sta Perché è lontana Facciamo finito Di tipparci lontano In modo tale Di tipparci poi vicino Speravo di riuscire a farlo Un po' prima Dragha il mio albero Genealogico Perché voglio tutti Me ne manca un 5 Adesso Avrò off the record L'ultimo Non può che fare rumore Zio Ha sbagliato lo skill check Da Della cura Mi sa E allora GG Perché non l'ha grabbato Ah già è vero Perché non l'ha grabbato Perché non si può più Mi ero completamente Dimenticato Merda Finora non è servito Per fortuna Ma merda L'inizio Ha dei tasti strani Sì Hanno tolto il fatto Che puoi grabbare la gente Sugli uncini Dagli uncini Mentre stanno facendo i save Ciao Rai Buonasera caro Come stai? Ma il tizio che? Is for Nick Buongior